Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa che mescola mistero, azione, relazioni complesse e elementi sovrannaturali, mentre costringe i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili e dilemmi morali che influenzano il destino del mondo e delle persone che amano. La trama del libro La Trilogia di Wicked, tre romanzi in un volume, Lontano da te, Ritorno da te, in fuga da te, della scrittrice Jennifer Omentwell, casa editrice Nord, è la seguente. Ivy Morgan è rimasta orfana a 18 anni, e adesso non permette agli altri di entrare nella sua vita. Nessuno infatti deve sapere che i genitori erano affiliati a un antichissimo ordine segreto e che, con la loro morte, è toccato a lei ereditare la loro missione. Ren Owens è l'ultima persona al mondo per cui Ivy dovrebbe provare interesse. È impulsivo, imprevedibile e troppo arrogante persino per essere un membro dell'elite. La sezione dell'ordine cui vengono affidate le operazioni più pericolose. Ma quando guarda i suoi profondi occhi verdi, Ivy sente di volere lui. E ha l'impressione di potersi davvero fidare. Però tutto cambia quando Ivy scopre un segreto sulle origini della propria famiglia. Un segreto che non può rivelare a nessuno, neppure a Ren. Perché, se lui ne venisse a conoscenza, dovrebbe ucciderla. Ben presto, quindi, Ivy sarà costretta a fare una dolorosa scelta, mentire all'uomo che ama o sacrificare se stessa per la salvezza del mondo intero. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.